In campionato Lentella ha conquistato 79 punti di cui 40 in trasferta 39 in casa. A tre giornate dall'epilogo della stagione regolare l'aggancio alla Reggiana in vetta alla classifica del Girone B. Quindi due pareggi contro Lucchese e Recanatese e addio ai sogni di gloria. La Reggiana non sbaglia, Fallonplein si prende la Serie B mentre Lentella chiude addirittura al terzo posto per via dello scontro diretto che premia il Cesena 0-0 in Liguria, 4-0 in Emilia. Di certo un duro colpo per la squadra di Volpe che nei play-off al debutto viene sconfitta a Gubbio 2-0 ma a Chiamari nel match di ritorno ribalta la situazione. Organico senza dubbio di qualità, nobilitato dalla presenza dell'uruguaiano Gaston Ramirez cercato in estate anche dal Pescara. 33 anni da compiere, trascorsi importanti in A, in totale 173 presenze e 26 gol con le maglie di Samp e Bologna. Nelle immagini la prodezza contro gli Umbri. Non solo Ramirez, anche Clemenza al pari degli attaccanti Zamparo e Fagioli, abruzzese di penne. E poi soprattutto l'italo-albanese Silvio Mercai. 26 anni a dicembre, 15 gol in stagione. Punta che ama svariare, particolarmente incline ad attaccare gli spazi e appressare tantissimo gli avversari in fase di non possesso. Il tecnico Gennaro Volpe recupera l'esperto Pellitzer ma perde per infortunio Chiosa, elemento chiave della retroguardia. Non al meglio per acciacchi di varia natura, Tencorang, Barlocco e Simone Tascone. Sistema di gioco utilizzato nell'ultima sfida, 3-4-2-1. A centrocampo Corbari è uno dei tanti ex e la 36enne, Andrea Paolucci, abruzzese di Tollo. Sulle fasce Zappella a destra e Tomaselli a sinistra, tra Lelina e Clemenza e Ramirez. A ridosso di Mercai che sino a tre stagioni fa, a campionato 2020-21, militava in Serie D nel basto Girardi. Ben nove i diffidati, Sadiki, Borra, Siatunis, Corbari, Reali, Tascone, Manzi, Mercai e Ramirez. Sette invece Biancazzurri a rischio squalifica. Plizzari, Messic, Milani, Palmiero, Colai, Lescano e Brosco, che potrebbe dare forfè a causa di una lieve lesione alla coscia, se così fosse per la cani dalla primo minuto. Per passare il turno il Pescara dovrà vincere almeno una delle due gare. Il doppio pareggio al novantesimo, non sono previsti tempi supplementari, premirebbe infatti Lentella in quanto testa di serie.